L'Agenzia delle Entrate di Larino è salva. Il Tar del Molise, o una sentenza dello scorso 26 luglio, ha dato ragione al Comune che aveva fatto ricorso contro la decisione della Direzione Generale dell'Ente, che nell'ottica di una revisione delle sedi aveva deciso la soppressione di quella frentana. Ora, il provvedimento è stato sospeso dai giudici che hanno accolto le motivazioni presentate dall'amministrazione guidata da Vincenzo Notarangelo e che evidenziavano l'illogicità del provvedimento di chiusura, in una fase in cui il Tribunale di Larino diventa l'unico presidio giudiziario del Basso Molise con conseguente necessità di coordinamento con l'Agenzia delle Entrate per l'Emissione degli Atti Giudiziari. È una sentenza che ristabilisce la legalità. Una circolare non poteva abrogare una norma di legge. Ora siamo fiduciosi nel proseguo del giudizio, ha commentato il Sindaco, che esprime comunque amarezza per il mancato dialogo tra le istituzioni e per essere stato costretto a ricorrere alle vie legali. L'amministrazione, pur di mantenere il servizio, aveva anche proposto alla Direzione Generale l'uso gratuito dei locali. Ma non c'era stata risposta. La risposta ora è arrivata dai giudici. Spero che questa sentenza ridia un po' di fiducia ai larinesi, che troppo spesso si sono visti imporre decisioni dall'alto, ha concluso Notarangelo. Della questione si era anche interessata la delegazione parlamentare del PD con un'interrogazione presentata da Laura Venitelli, oltre che lo stesso sottosegretario di Larino, Sabrina De Camillis.